C'è questo Alpha che non conosciamo assolutamente, abbiamo Grugnir Grugnir E abbiamo L'Avacorno E nel mettere noi stiamo facendo queste cose comunque E' già iniziato il primo match Delle pull, ufficialmente Iniziamo i singles di Revalo Falcon Ancora una volta Sono tutte A, no, non sono tutte A le pull Non è possibile Per ora è wave A, ma c'è la wave B Abbiamo, beh, venivano a fare questi neri Ho Instagram per continuerà a uscire al Zadvantage Ma tempo ci fa una pietra, ben i giochi A punire Un altro, un altro nero of system Tornemolo, diciamo il mio, con la spera Pericolosina E' giusto trucchi, no E' iniziato già malissimo Su un pesito azione Pericolosina Guarda, sempre quanto per apetere la crescita Un altro, anche una stessa Dottore, chiedete Kid Sì esatto, ditemi se c'è qualcosa che non va come audio video se non avevano però ci ho messo un'ora aspettare quindi se non va bene questa è la coda 1 grazie comunque in tutto questo ha già la seconda sto che a rischio progetti che il lucario 3 back and back in qualsiasi momento così così si può evidente che manca il nè manca il zero scorre che non ha fatto maio scuola va bene c'era qualche perfetto comunque a pull a 1 si è la pull a 1 questo è anche vero anche mettere a 1 che specificare lasciamo l'immaginazione del con del lettore c'è l'immaginazione del scrittore ragazzi a posto fatto questo ha preso sono da stocca però lo stesso tempo adesso alla rage massima non si può mai dire quello che è possibile la terza sto che sicuramente quella più pericolosa per l'ucare lucario assolutamente si avrebbe affattura nel normale non male sta stagionando un po meglio rispetto all'inizio purtroppo è stato un po sfortunato con quelle di controllo del terreno presto sono tre i bravi te no oddio 3 non siamo in bravo e marco siamo comunque ben 27 persone anzi siamo molto di più si è stato accontato malamenta lucario fantastico ottimo counter la parte lucario e l'appunto un magnissimo adesso è finito a tempo lo sapere laura spiare non funziona per fare un cambiamento pericolosissimo orca miseria veramente una situazione un po rischiosa per entrambi per questa stocca potrà passare molto presto io non l'ho punito non è verrà mostro era una capa della mostra era molto e lavoro si siamo ovunque tre pesi nella 1 sì ovviamente appunto questo sarà l'unico match stimato nella un tre persone lasciata che potrà lasciata che le tipi salto non c'è un massimo sto posto no ragazzi una fatta cosa è bene smetti comunque ai miei tempi ad esempio cosa dai sei più piccoli mea or no ma sono 47 anni va beh è vero effettivamente io ne ho 53 sono più vecchi di l'ins aia l'ins mi viene figlio a picco ai 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 io questa prenderà una dichiarazione un po bruttina comunque perché deve mettermi avere l'ins come figlio dove sia il mio amore di vergogna comunque no si scherza ovviamente l'ins no no assolutamente comunque secondo match comunque da parte di c'è un cambio oppure ritorna con lucario non ha selezionato non ha selezionato niente quindi dobbiamo aspettare for giulio for giulio comunque la tag for giulio d'obbligo a rimasso arrivati vogliamo bene vogliamo tutti bene vogliamo tutti bene torna ti aspetti sì che torna c'è il pop it meglio ci dissociamo comunque vediamo che ci sarà un cambio di pg io non so se shunp gioca altro che c'era un po' di gioco grande gioco un po ridi appunto vedo che un po tentatino e andare verso il regno e ruolo no 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 diamo calmi stiamo calmi questo è un po pericolosi non è una cosa però forse l'interno della cinti era più della la finita la penesina non alcuni cofendi in si nel rottoricokenn si prodotti o lì sì ok no per niente ok ritorniamo a ridoniamo lucario del drama selezionato samurai raccontato però ancora dobbiamo confermare proprio se ci sarà qualche cambio non c'è nessun cambio la mia giornata skin perché a giornata sfida ragazza abbiamo un bello basti anni di parlare cambia di stage abbastanza che non so effettivamente se nessuno va benissimo questo stage mi sembra se c'è un po migliore per l'uvario personalmente però magari non sbaglio negativamente ci può stare la stessa grosso in aria come frattempo ha fatto un bello io ottimo da un era annullato la bps ci prova pericolosino od e si è beccato il panice enorme è ancora un dio che ha preso c'è un bello che questo era più no questo era un down air messo molto bene o il mio è ancora di vato a dire campione ancora vivo ottima azione a guarda di giù per essere a guadagnarsi il vantaggio fantastico ottima mossa parte di giù davvero molto tempo che adesso cerca la grado no non si attacca se invece di lasciata che che con la un po perché 150 kg per forza la cosa lì che è l'uomo 50 era un pochino un problema è un problema molto grave già la sua legge era davvero tantissimo arriva da quel punto lì se non butti subito fuori di schifo c'è un pedicero ma molto grave attenzione per da una palla e sgardo e sgardo un abito ottimo ultimo il danno continuo ho provato di chiamare un troppo troppo tardi adesso 90 per cento continuano a provato a mai aspettare un vero per niente si è fatta il barbio da tre ma io mi raccomando tu sei tu si è appena messo una situazione veramente orribile la stock come prima questo una stock di vantaggio a parte di petro situazione veramente veramente complicata ma la reggio potrebbe sempre aiutare c'è laura c'è veramente tanto davanti a via non è più cosa mi dispiace mi sa per don fare in tutto da un e le connello bene non è in neutro da riuscire alla pressure servire racconta un tilt anche una volta situazione assolutamente recuperabile ok questa risa che era prima poteva assolutamente uscire e il mario la prova effettivamente molto rischioso ottima azione ma ne è riuscito a realizzare in tempo un'altra non mi sa che ha fatto da punire peccato è stata una situazione molto molto complicata per cresciuto potrebbe riuscire a recuperare molto molto in fretta è già praticamente una gradova è morto già la rage comunque inizia a farsi sentire laura della la stock comunque va a sentire tantissimo troppo sono dei tensi di valvantaggio è fattibilissimo è fattibilissimo se riesce a prendere un po di avvore non riesce ancora a pulire a un po di controllo o mio dio è male ha fatto un'altra volta pulciare già come l'ha preso come l'ha preso quel bel ragazzi i piedi sono in calabria dove raccorsano la tafimio non è